Benvenuti. Siamo con il professor Pietro Muratori, psicologo clinico presso l'IRCS Fondazione Stella Maris, docente di psicologia dell'educazione e dell'inclusione presso il corso di l'area in scienza e formazione primaria dell'Università di Pisa e docente di psicologia clinica e dello sviluppo. Benvenuto professore. Grazie. Professor Muratori, lei è coautore del libro DOP, disturbo positivo provocatorio per la scuola primaria. Una guida rapida per insegnanti edito dalla Ericsson. Ci ricordi innanzitutto cosa si intende quando si parla di disturbi del comportamento e qual è l'obiettivo del vostro libro? Allora, i disturbi del comportamento in età evolutiva si manifestano attraverso delle difficoltà nel bambino essenzialmente nel rispettare le regole date dal contesto, nel modulare le proprie emozioni, in particolar modo le emozioni di rabbia e paura, ansia, e si manifestano inoltre con una difficoltà marcata nel controllo volontario del comportamento. Quindi hanno difficoltà nel momento in cui anche vogliono, diciamo, provare a regolare, a controllare i propri impulsi, il proprio impulso di alzarsi, di parlare, di alzare la mano, qualsiasi tipo di impulso o di parlare con con un compagno o qualsiasi tipo di impulso, anche se vogliono cercare di controllare questa tendenza ad agire, hanno difficoltà a farlo. È un cluster diagnostico anche, quindi è una vera e propria diagnosi che si può fare in età evolutiva se queste difficoltà si presentano, per più tempo, quindi circa sei mesi, si presentano quasi tutti i giorni della vita del bambino e si presentano soprattutto in due contesti di vita. Quindi il bambino manifesta queste difficoltà sia nel contesto familiare sia nel contesto scuola. Al di là della diagnosi, cioè per fare la diagnosi, il bambino deve rispettare, insomma, deve rientrare all'interno di questi criteri, ma direi che al di là della diagnosi clinica si possono vedere come delle difficoltà che si muovono all'interno delle dimensioni che ho sopra citato. Quindi ci possono essere tanti bambini che possono avere delle difficoltà nelle dimensioni che ho sopra citato, che possono essere, diciamo così, rientrare nei bambini con difficoltà di comportamento, anche se non aderiscono perfettamente ai criteri diagnostici che ho sopra elencato. Ecco, professore, quali sono i principali comportamenti di un alunno con disturbo positivo provocatorio? Allora, rimanendo all'interno dell'idea della dimensione, ok, quindi le dimensioni che all'interno del quale poi afferiscono i comportamenti difficili sono la dimensione dell'umore collerico, ok, quindi un bambino che è spesso permaloso, di cattivo umore, se la prende, diciamo così, per cose o per avvenimenti che dall'esterno possono sembrare roba di poco conto. Il problema in questo caso è che invece il sistema emotivo, le emozioni del bambino sono molto intensi, quindi il bambino effettivamente sente che quello che è accaduto gli ha generato un'emozione molto forte e quindi etichetta mentalmente quello che è accaduto come qualcosa di effettivamente molto importante e molto grave, direi, dal suo punto di vista, un punto di vista che parte dopo, che nasce dopo che lui ha sentito questa emozione molto, molto forte dentro di lui. Il secondo cluster, il secondo gruppo di sintomi ruota attorno all'idea della provocatorietà, provocatorietà è scarso rispetto a delle regole, quindi non solo c'è una difficoltà a capire l'importanza della regola, c'è una difficoltà a rispettare l'autorità, spesso nella mente del bambino quando il disturbo opposito provocatorio, questa autorità è vista come un'autorità ingiusta e poco interessata a lui o a lei e tutto questo poi si manifesta anche attraverso a volte un comportamento di sfida marcata, ok? O di oppositorietà marcata. Anche quando, di nuovo, da un punto di vista esterno, le regole che si possono mettere al bambino opposito provocatorio sono regole che la maggior parte dei bambini riesce a rispettare, regole, come dire, di normale convivenza all'interno del contesto in cui è inserito il bambino. Purtroppo, da una parte, la difficoltà a regolare l'impulso che spesso questi bambini hanno li rende veramente difficile rispettare la regola. Per alcuni bambini, quindi, non è che non comprendono l'importanza della regola, capiscono l'importanza della regola, vorrebbero rispettarla perché capiscono che rispettando le regole si può andare più d'accordo con gli altri, con gli insegnanti come con i bambini. Quindi sono bambini che tengono, come tutti gli altri bambini, a andare d'accordo con gli altri, ad avere complimenti dagli insegnanti, tengono ad avere buone relazioni con i compagni di classe, esattamente come tutti gli altri bambini. Per fare tutto ciò a volte lentamente nel corso dello sviluppo bisogna imparare a seguire delle regole, però se il tuo impulso ad agire è molto forte e non riesci a controllare volontariamente questo comportamento, il rispettare la regola e stare dentro i binari delle regole è molto più difficile. E non solo, poi piano piano questi bambini tendono poi a combinarne tante e quindi a volte il contesto, nel momento in cui il bambino comunque rispetta una regola, magari il rispetto della regola passa un po' come un comportamento quasi se diventasse invisibile, no? Cioè siccome ne combino dieci al giorno, la volta o le due volte che invece riesco a rispettare la regola nessuno me lo riconosce o comunque me lo riconoscono di meno. E questo piano piano, giorno dopo giorno, capite bene che rende ancora più difficile per il bambino capire l'importanza del rispetto della regola. Ok, cioè se nessuno me lo riconosce, effettivamente perché ne combino tante, quindi non sto colpevolizzando il contesto, lo sto descrivendo come un processo che ahimè è naturale, che molto spesso si formi in questo modo, per me sarà ancora più difficile rispettare questa regola. A volte, a volte, un numero più ristretto di bambini con difficoltà di comportamento possono diventare, emettere comportamenti anche più vendicativi, ok? Vendicativi dispettosi, ecco, quindi in cui c'è proprio la volontà, diciamo così, di fare del danno all'altro, ok? Una minor percentuale di bambini con difficoltà di comportamento hanno una primaria difficoltà nello sviluppo della cosiddetta empatia, cioè ovvero nello sviluppo dell'interesse per l'altro e l'affettività con l'altro. Questo a volte gli rende marcatamente dispettosi, ecco, potremmo definirli così da un punto di vista esterno. Ecco, professor Moratori, il vostro libro si rivolge alla scuola primaria. Perché partire dalla scuola primaria e quali sono i benefici di un intervento precoce? Allora, i benefici di un intervento precoce sono infiniti, cioè se noi fossimo in grado anche attraverso un coinvolgimento della scuola, anche attraverso un maggiore investimento di risorse per fare questo intervento, questo tipo di formazione agli insegnanti a scuola, penso che riusciremo veramente a fermare quella che noi clinici chiamiamo una cascata di fattori di rischio, ok? Cioè il bambino distrugge il comportamento, diciamo così, che manifesta tutte le difficoltà che ho detto, anche se in maniera più sfumata, fin dall'età prescolare, quindi fin dall'età della scuola dell'infanzia. Queste difficoltà poi si manifestano all'interno di specifici contesti relazionali e se nessuno, come dire, interviene, poi creano quelle che noi chiamo effetto a cascata di fattori di rischio, ovvero il bambino con disturbo del comportamento, ad esempio, inizia ad avere difficoltà di relazione con i pari. Viene a volte un po' emarginato, dei pari, a volte può essere avere proprio delle difficoltà di relazione all'interno della classe, fuori della classe, inizia ad avere difficoltà in famiglia e via via dicendo. E nessuno, se nessuno come minimo, diciamo così, spiegano che il bambino con difficoltà di comportamento non lo sta facendo apposta, ecco, e quindi se non si prendono le giuste misure con le difficoltà di questo bambino, si creano tutta una serie di ulteriori problematiche al bambino stesso e al suo contesto. Quindi l'intervento anche solo formativo, ecco, o informativo, precoce, sarebbe veramente, veramente molto, molto importante. Noi abbiamo voluto dedicare questo libro pensando agli insegnanti della scuola primaria, perché di fatto, di fatto, la massima espressione di difficoltà di comportamento si ha all'inizio, nei primi anni di scuola primaria e poi purtroppo spesso si trascinano o peggiorano durante gli anni della scuola primaria. Questo probabilmente avviene perché all'interno della scuola primaria le capacità di regolazione del comportamento sono maggiormente stressate, il contesto classe diventa un contesto più complesso da gestire per il bambino. Le richieste prestazionali, diciamo così, scolastiche, aumentano molto spesso, apro una velocissima parentesi, molti di questi bambini con difficoltà di comportamento hanno anche difficoltà specifiche o proprio disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi queste due cose, ovviamente, queste difficoltà si potenziano a vicenda nel determinare le loro difficoltà di inserimento all'interno del contesto scuola, soprattutto la scuola primaria in cui si hanno i primi rapporti con l'apprendimento più strutturato. Oltre a questi motivi abbiamo pensato di scrivere questo libro pensandolo per la scuola primaria, quindi per gli inizianti di scuola primaria, anche perché comunque è proprio all'interno della scuola primaria che questi bambini, bambini con difficoltà di comportamento creano anche delle difficoltà all'interno degli altri bambini della classe, perché comunque fermo restando tutta la comprensione o anche l'empatia che io ho nei confronti dei bambini con difficoltà di comportamento, capisco perfettamente anche il fatto che comunque in classe anche gli altri bambini della classe possono avere delle conseguenze negative o comunque soffrire, diciamo così, anche emotivamente per i comportamenti, gli atteggiamenti del bambino con difficoltà di comportamento. E non solo, credo anche che avere in classe uno o a volte anche due bambini con difficoltà di comportamento possa provocare anche un livello di stress emotivo nella figura o nelle figure degli insegnanti stessi. E quindi abbiamo cercato di scrivere questo libro pensando, cercando di indicare alcune vie agli insegnanti per comprendere meglio le emozioni, i comportamenti dei bambini con difficoltà di comportamento. Ma diciamo che forse l'aspetto più originale mi verrebbe da dire del nostro scritto, del nostro libro, è il fatto che abbiamo cercato di aiutare gli insegnanti pagina dopo pagina anche a leggere meglio le loro emozioni, le loro reazioni di fronte a un bambino che ha delle difficoltà di comportamento durante la giornata di scuola. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Appunto parlavamo di insegnanti. Quali sono i suggerimenti che si sente dare un insegnante quando si trova a dover gestire questa tipologia di alunni? Allora, riprendo l'ultimo punto, credo che il primo passaggio fondamentale, che è proprio il fondamento di tutto quello che si può costruire dopo, è la lettura delle proprie emozioni e della propria tendenza a reagire. I comportamenti che i bambini con disturbo del comportamento possono fare in classe, possono emettere in classe, mettono a dura prova l'insegnante, mettono a dura prova il fatto che il bambino spesso sfida l'insegnante stesso, mettono a dura prova, le mettono a dura prova perché molto spesso i comportamenti che loro possono mettere in classe generano paura, preoccupazione, perché potrebbero farsi male o far male a qualcuno. E quindi innanzitutto soffermarsi con un atteggiamento di attenzione, non giudizio, sulle proprie emozioni. È normale, mi verrebbe da dire, trovarsi in difficoltà di fronte a un bambino che ha questi comportamenti. Accogliere, accettare le proprie emozioni, le proprie difficoltà. Poi il secondo passaggio che abbiamo cercato sempre di delineare, comportamento dopo comportamento, pagina dopo pagina del libro, è quello di cercare di comprendere, ok, mettersi nei panni del bambino che abbiamo di fronte, che hanno di fronte. E quindi cercare di comprendere qual è l'emozione o il pensiero che in quel momento sta guidando quel comportamento. E cercare di sintonizzarsi con quell'emozione o con quel pensiero. Di nuovo cercando di non giudicarlo, di avere un atteggiamento curioso e non giudicante verso l'emozione e il pensiero del bambino stesso. Tutto ciò però, ribadisco, è possibile. O solo se prima abbiamo fatto un check, abbiamo dato un'occhiata alle nostre emozioni. Ok. Proprio con la consapevolezza che è normale di fronte a questi bambini sentirsi in difficoltà. Poi, terzo punto, diciamo terzo scalino, abbiamo cercato anche di indicare effettivamente cosa fare. Ok. Quindi, che tipo di linguaggio usare, che tipo di intervento poter effettuare. E sulla linea dell'intervento abbiamo sempre cercato di suggerire degli interventi su due livelli. Il primo livello è l'intervento sul momento sul bambino in difficoltà. E il secondo livello dell'intervento che abbiamo cercato di suggerire è invece un intervento più su tutta la classe. Perché non ci scordiamo mai che il bambino con difficoltà di comportamento è sempre inserito all'interno di una classe. Noi, quindi abbiamo cercato di dare delle indicazioni sul come intervenire con il bambino e allo stesso tempo come cercare di intervenire su tutta la classe in modo tale che comprenda la difficoltà del bambino, per quanto dipende un po' poi dall'età dei bambini, come farlo. E abbiamo cercato di delineare questo pagina dopo pagina, comportamento dopo comportamento, nel libro che abbiamo scritto. Grazie, professor Moratori, per essere stato con noi. Grazie a voi per il tempo e l'intervista. Mi piace sempre molto vi a parlare di questo tipo di... e cercare di aiutare gli insegnanti che hanno a che fare con bambini con difficoltà di comportamento. Grazie.